io alzo le mani alzo i piedi ragazzi non ho più parole per descriverli ho finito gli aggettivi se ripenso alla champions league al milan di qualche giorno fa ma voi vi state rendendo conto di che squadra stiamo parlando anche e soprattutto se pensiamo all'atteggiamento iniziale della juventus va moltiplicatore il mio parere in merito adesso ne parlerò parlerò anche di episodi arbitrali perché me lo avete chiesto sono qui per questo su instagram mai bombardato secondo te quello così quell'altro adesso vi dico tutto ma rilancio se lascerete una marea di mi piace su questo video vi porto anche in merito il parere del buon fabio su questa partita partita molto importante ve lo ripeto è milan juventus le saluto immediatamente ciao e bella a tutti da me vi invito a lasciare mi piace appunto anche per supportare i miei contenuti è gratis non costa niente iscrivetevi e attivate la campanellina se vi fa piacere ricevere le notifiche in tempo reale sul cellulare ogni volta che pubblico qualcosa così non vi perdete più un mio video ho altri due canali youtube un altro di calcio oggi carriera su fifa 23 canale extra calcio oggi post partita post gara di formula 1 trovate tutti i canali in descrizione o compariranno qui durante il video dice da dove vuoi partire io voglio partire dalle scelte e non dagli indisponibili ragazzi perché da una parte dall'altra ovviamente lo sappiamo mancavano giocatori importanti ma negli ultimi anni se dobbiamo ogni volta parlare con i se e con i ma in realtà è sempre così non si arriva mai da nessuna parte no tantissime defezioni da una parte e dall'altra ma le scelte che fa pioli ragazzi che alla fine scusate per stare il polpettone che alla fine pagano sempre un decetelar lo avete visto tutti no ultimamente soprattutto no che sembra un po inflessione pioli che ci aveva la possibilità di buttarlo nella mischia no anche per l'investimento che è stato fatto invece decide di risparmiarlo decide di tenerlo sulle spine di tenerlo sull'attenti e di buttare nella mischia brain diaz brain diaz che da quando sta al milan ci ha avuto tanti alti e bassi no e secondo me questa alla fine ragazzi è la scelta vincente per eccellente defioli che ne sbaglia veramente poche per non dire non ne sbaglia praticamente nessuna contro una juventus che è partita con un piglio di quelli pazzeschi e che voleva portarsi a casa i tre punti ragazzi si vedeva per l'atteggiamento per le occasioni iniziali create no ma poi cos'è successo o ve dico tutto quanto allora recupero la situazione occasioni così non mi perdo assolutamente nulla ragazzi il milan è la juventus c'ha tre grandi occasioni no milan è che sembrava un po non dico in bambola forse anche un po in fase di studio no non dico che ha lasciato fare i bianconeri perché secondo me va dato merito alla juventus per come ha interpretato inizialmente la partita avrebbe meritato il gol del vantaggio la juventus guardando com'era partita a mio modo di vedere assolutamente sì belle occasioni da rete milic danilo se non mi ricordo male quadrato ma poi che cosa succede ragazzi succede che dall'altra parte c'hai una squadra che so pur sempre campioni d'italia c'hai una squadra che negli ultimi anni in maniera esponenziale a moltiplicatore hanno preso una mentalità partita dopo partita risultato dopo risultato trofei dopo trofei tra virgolette scudetto del caso tirano fuori la testa e c'hanno un fenomeno lì ragazzi sulla sinistra di quelli pazzeschi perché leao stava a giocare a tedesca praticamente sta per bonus a destra a sinistra non l'ha fatto a posto ovviamente ma quando accelera quando parte palla al piede quando lo vedi che c'ha proprio quella facilità nel palleggio nell'accelerazione è difficile è difficile perdere le partite quando c'hai o anche pareggiarle mi verrebbe da dire quando c'hai un giocatore di questo calibro io non ve l'ho mai detto finora ma mi sbilancio e vi dico che secondo me se continua così leao nel suo ruolo può diventare il più forte al mondo nel suo ruolo per me può diventare il numero uno assoluto attualmente in top 5 parliamoci chiaro perché è sotto gli occhi di tutti quello che fa la pericolosità delle sue azioni qua non si parla solo dei pali qua si parla anche di le occasioni che crea anche quando mette i palloni in mezzo ed è lì che il milan tira fuori la testa è leao che gli dà lo switch psicologico per dire oggi siamo partiti bene ma se può sempre recuperare se può fare sempre qualcosa di meglio e Tomori la butta dentro 1 a 0 ragazzi corner adesso arriviamo alle situazioni da var tra virgolette da var Tomori si trova al posto giusto al momento giusto la ribadisce a rete e arriva una mazzata psicologica alla juventus tra capo e collo non indifferente e si è visto si è visto poi anche San Siro che magari ti dà quel qualcosa in più ti trascina l'undice dodicesimo uomo in campo no pa e si è visto Vlaovic mano allora quello che dice Marelli secondo me è assolutamente giusto perché il braccio è attaccatissimo al corpo ma il movimento di Vlaovic va ovviamente consapevole che ha il braccio attaccato al corpo l'ha fatto però è al limite è al limite perché tu nonostante c'è il braccio attaccato al corpo la prendi volontariamente secondo me no per chiudere una palla che probabilmente era indirizzata in porta quindi regà quando il braccio attaccato al corpo è difficile fischiare un calcio di rigore onestamente parlando e per quanto riguarda l'occasione che ha portato al gol sì ragazzi c'era fallo c'era assolutamente fallo ma il VAR non può intervenire perché sappiamo tutti che non è una una situazione da VAR quindi per me c'era assolutamente ma credo che sia abbastanza oggettivo eh e ragazzi il Milan la differenza attuale tra il Milan e la Juventus è stata una partita a due facce equilibrio e anzi è partita molto meglio la Juventus tra due squadre che secondo me nella partita secca si equivalgono no è sempre una partita da tripla ma la testa la mentalità il layout e turno fanno propendere ovviamente il lago della bilancia in favore del Milan quello che fa Brahim Diaz il pressing e l'aggressività che il Milan c'ha avuto a inizio secondo tempo è perché Pioli negli spogliatoi c'era gabbia che diceva ai microfoni di Etason dobbiamo ascoltare devo fatemi sbrigare negli spogliatoi voglio sentire che ci ha affrontare il secondo tempo Pioli e regà so convinto di questo gli ha detto stiamo a vincere 1 a 0 dobbiamo essere aggressivi recuperare palla nella loro metà campo e fa subito immediatamente il 2 a 0 perché gli spezzi le gambe non ce capiscono più un cazzo e così è stato Vlaovic mi pare che fosse non si può permettere di fare un passaggio del genere perché quello da scuola calcio sono errori che non si possono fare manca le partite dell'oratorio te lo insegnano proprio come base Brahim Diaz l'hai stato bravissimo però e la mentalità che da Pioli ai calciatori che attualmente non sono più titolari è ripartito hanno provato a stenderlo in tutti i modi un milic bonucci questo quello non ci sono riusciti ragazzi dal momento in cui fare 2 a 0 era presto ancora è la Juventus ci ha provato ci hanno avuto sicuramente altre situazioni e altre occasioni ma questa è la differenza attualmente che intercorre tra una squadra vincente e una squadra che ha vinto fino a un po' di tempo fa e che adesso si sta ricostruendo rinnovando anche ringiovanendo guardando gli ultimi acquisti e che però attualmente c'è il gap cioè dal punto di vista mentale c'è veramente un abisso tra Milan e Juventus io voglio sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti poi con Fabio parleremo ovviamente di situazioni di classifica dei punti acquisiti dei tre punti importanti per il Milan in ottica anche partite future mamma mia mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione e contenuti consigliati complimenti e onore a questo Milan perché alla fine meritatamente ragazzi meritatamente la partita si giudica per tutti i minuti fatti se porta a casa sta vittoria buona serata ciao